Lei è stato recentemente in Uganda, ha avuto modo di incontrare il mondo della cooperazione italiana che lavora nel paese. Che cosa l'ha colpita? Mi ha colpito il fatto che, per di tutto, l'Uganda è un paese che la cooperazione italiana, quando parlo di cooperazione italiana mi rivolgo soprattutto a chi è sul posto e che lavora come organismi non internazionali, organismi nazionali, NGO, se così come l'AFSI del resto, merita molta attenzione. Prima perché l'Uganda sta trovando una sua forma di stabilità, due sta diventando ricco come tanti paesi africani, proprio in questo momento è fragile, proprio in questo momento ha bisogno che tutto ciò che abbiamo fatto e stiamo facendo continui ad avvenire. Le do un esempio di ospedali, ci sono delle strutture mediche gestite dai nostri medici, quando dico nostri medici italiani e insegnanti che hanno fatto miracoli. C'è un'intera generazione di ugandesi che si ricorda dei loro insegnanti in termini campo medico. Mi ha reso molto orgoglioso ma mi ha anche detto, attenzione, non dimentichiamoli. Senta, in particolare di AVSI, lei ha avuto modo di parlare con i cooperanti di AVSI in Uganda. Le due cose o l'unica cosa che l'ha colpito che può valere per tutta la cooperazione come metodo, c'è qualcosa? Sì, è il contatto diretto e il trasferire informazione ed educazione nel loro campo. In poche parole non si tratta soltanto di aiutare per la prevenzione di alcune malattie, ce n'è una in particolare sulla quale erano focalizzati, quello del tumore cervicale, ma è quello di preparare gli ugandesi, i medici, infermieri ugandesi, ad affrontare questo una volta che noi saremo partiti. Questo viene fatto in maniera talmente dignitosa ed efficace che viene considerato anche in un momento in cui loro hanno i mezzi necessario e utile. Senta, lei il mondo della cooperazione non solo lo conosce, l'ha vissuto dal di dentro. Che cosa dovrebbe cambiare secondo lei oggi, sia nel mondo della cooperazione, ma anche nel rapporto con chi la cooperazione dovrebbe supportare, magari con le raccolte fondi? Prima di tutto dovrebbe cambiare la priorità. Non è possibile, anche in un momento di situazione economica come quella che giustamente stiamo affrontando, che nella cooperazione ci siano così pochi mezzi. In fondo l'Italia è sempre stata, forse abbiamo viziato noi stessi e il mondo, come un paese che dava alla cooperazione una priorità. L'immagine di un paese non sono le manifestazioni di forza, sono quelle in cui noi dimostriamo come abbiamo fatto, che siamo pronti ad aiutare tanti paesi come loro, sono pronti ad aiutare noi quando è necessario. È una maniera la cooperazione. Secondo, la società civile. La società civile, cioè le ONG, è una di quelle alle quali guardo con particolare attenzione e ammirazione, sono al contatto con la gente. E questo è quello che ci rende differenti e che è anche una caratteristica italiana. Grazie. Grazie.